Aveva aggredito una giovane alla stazione di albergo frazione del comune di Civitella in Val di Chiana, le aveva chiuso la bocca con una mano per impedirle di gridare e poi con un coltello, l'aveva minacciata e ferita ad un braccio. Adesso i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile del gesto. In manette è finito un cittadino marocchino, residente a Civitella, accusato di violenza privata e lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello. Il GIP ha convalidato il fermo disponendo gli arresti domiciliari nella sua abitazione, che si trova a pochi passi da quella del fidanzato della vittima, una vicinanza che sta sollevando nella piccola frazione le proteste e i malumori della popolazione. La giovane, infatti per timore di incrociare il suo aggressore, avrebbe interrotto le visite al fidanzato. Ad esprimere preoccupazione e chiedere chiarezza nelle ultime ore anche il sindaco Ginetta Menchetti. Intanto emergono nuovi dettagli dell'aggressione della scorsa settimana. Secondo quanto ricostruito dai militari, infatti la 23enne stava aspettando il treno per Arezzo, seduta su una panchina, quando all'improvviso era stata aggredita alle spalle. Nel tentativo di liberarsi si sarebbe dimenata sino a cadere a terra assieme all'aggressore. A quel punto si sarebbe accorta che l'uomo stava impugnando un coltello con una lama lunga, circa 15 centimetri, con la quale si sarebbe ferita. L'aggressore era riuscito a darsi alla fuga, ma i carabinieri, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e alle testimonianze di alcuni presenti, sono riusciti a risalire all'uomo già noto alle forze dell'ordine. Il marocchino ha ammesso di aver aggredito la ragazza, senza però riuscire a fornire le ragioni della violenza. ha infine detto di essersi sbarazzato del coltello durante la fuga, ma di non ricordare dove l'avesse gettato.